ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video andremo a vedere un comando che ci permetterà di migliorare la visualizzazione nella sovrapposizione di due raster di due immagini il comando esattamente è modalità fusione allora nell'esempio che andremo a vedere ho caricato come base di mappa ho caricato un google satellite quindi un vms google satellite un altro vms relativo alle ortofoto e poi come diciamo mappe superiori un vms e questo qua esattamente del catastro come ben conoscete vms delute e poi un esempio anche di una ctr allora sulla sovrapposizione del di due immagini raster ovviamente nel caso più semplice è quello in cui ho una mappa con due pixel in questo caso la ctr sempre regione veneto in cui ho uno zero e un pixel uno quindi per sovrapporre e vedere quello che mi sta sotto in questo caso l'ortofoto semplicemente vado a dare al pixel 0 un valore nullo in questa maniera qua semplicemente vedo quindi la mia carta tecnica regionale con sotto la mia ortofoto le cose invece cambiano quando io ho a che fare come con una mappa che voglio sovrapporre che può essere una mappa scansionata quindi magari un jpeg o un png o come in questo caso un vms ut quindi sia in questo caso è anche quello della mappa come dicevo scansionata non avrò più due colori da poter gestire la trasparenza ma avrò una serie di tonalità sia nella parte scansionata in questo caso nella parte vms quindi di norma diciamo nella logica uno potrebbe dire ok utilizzo la trasparenza ed è vero questo discorso però vedremo che la qualità sicuramente più bassa quindi cosa farei io andrei tipo su particelle giusto vado a fare sulla proprietà e vado a giocare un attimo sulla parte della opacità globale quindi gioco un po così adesso abbasso ok gioco un po diciamo su proprio il contrasto che posso avere su due mappe potrebbe essere anche questa è una soluzione però vedete che in questo caso pur agendo provando varie diciamo percentuali di opacità vado a perdere la qualità la colorazione originale della mia in questo caso ortofoto quindi mi viene in aiuto quindi questo comando che trovo sempre all'interno delle proprietà ed è modalità fusione allora vado in proprietà eccolo qua visualizzazione layer ho già fatto un po di prove perché come vedete ci sono varie opzioni quello diciamo che mi sembra che mi sembra che abbia una qualità migliore è l'opzione scrivi quindi se io vado a fare la modalità fusione quindi scrivi vedete già in questo caso che mi dà un contrasto aumentando la qualità dei delle linee diciamo della vms però per migliorare ancora la parte che sta sotto che come vediamo è stato cambiata di tonalità ho visto che facendo sulla scala di grigi dando lucentezza ecco qua vediamo che torniamo davvero sotto di fate se vado spegnere un attimo una qualità che direi quasi identica quindi modalità fusione scrivi scala di grigi lucentezza riesco a vedere benissimo proprio la parte mia del vms ut e sovrapposto in caso questo caso l'ortofoto 2021 è la stessa cosa posso farla anche sulla mappa google satellite che come vediamo è un po più scura quindi magari la google satellite alza un attimo la luminosità comunque vedete che è molto molto chiara il discorso del vms ut e potrei anche dare torniamo un attimo l'ortofoto potrei dare anche questo gioco di modalità fusione anche ai fabbricati nel caso volessi un attimo la trasparenza rispetto alla mappa di base in questo caso facendo delle prove invece di utilizzare e scrivi qua uso scurisci sempre lucentezza ed ecco questo qua l'effetto vedete che ho il mio contorno del fabbricato con sotto la mia mappa di base per cui direi veramente che questo comando è molto molto comodo è un comando diciamo un po nascosto nel senso che si uno lo vede lì ma non non ha magari non ha neanche provato utilizzarlo a capire un attimo cosa può servire in questo caso è veramente interessante perché come abbiamo visto ci permette veramente in un semplicemente con due opzioni di proprio di una cosa quasi magica di poter togliere lo sfondo della mappa principale e creare questa trasparenza rispetto a quello che mi sta sotto bene siamo arrivati alla conclusione spero che questo video sia stato di vostro gradimento e aspetto i vostri commenti ciao a tutti alla prossima